Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Si risvegliò ed il suo primissimo pensiero Fu per le ombre ormai distese lungo il muro Benvenuto alla nuova puntata abbiamo ospite un gradito ritorno come ospite è un cantautore Ruggero Marazzi e a questo punto la prima domanda solge spontanea come è cambiato da quando dieci mesi fa ad oggi cosa ci sono di novità in particolare oltre a presentarci il nuovo singolo in Ruggero Veramente mi sembra ieri che ci siamo visti Grandissime novità non ce ne sono nel senso che abbiamo fatto un po' di promozione dell'album adesso abbiamo lavorato su questo video che è stato prodotto da un gruppo di giovani ragazze marchigiane è un video che secondo me è molto bello nel senso che loro sono state molto brave io ho dato un input, un'idea di fondo che loro poi hanno sviluppato assolutamente in modo libero credo che sia venuto abbastanza un buon risultato grandi novità nella mia vita artistica non ce ne sono nel senso che ho dei tempi piuttosto lenti quindi sì scrivo ma presto poi reinciderò qualche cosa ma per il momento non sto facendo niente a questo punto parliamo dell'estratto del singolo dell'album che poi è Edward ma in realtà è ispirato a un grande artista che poi è un'artista realista che poi nel brano si rappresenta un pochino l'immagine di questo realismo artistico di questo Edward che in realtà è un opera sì Edward Opper è un pittore americano che ha fatto la maggior parte della sua produzione nella prima metà del novecento penso che gli ultimi, è morto negli anni sessanta del secolo scorso quindi ha dipinto fino più o meno agli anni sessanta ed è un pittore che a me è sempre piaciuto molto pittore che descrive la solitudine dei luoghi e delle persone un certo tipo di vita contemporanea e la canzone Edward che naturalmente Edward si intende ovviamente Edward Opper la canzone Edward nasce inizialmente dall'osservazione di un paio di quadri il primo era The Morning Sun che è anche il sottotitolo del brano e l'altro era Automat che è un quadro del 27 e partendo da queste due immagini io mi sono praticamente inventato questa storia il tema del brano in realtà è uno dei temi più ricorrenti della storia della canzone perché è il tema dell'abbandono in qualche modo ci entra il tema della solitudine che viene espresso appunto prendendo ispirazione prendendo ispirazione da questi dipinti, da queste opere e invece appunto parlando del videoclip dove questi quadri prendono vita con questo personaggio e che poi naviga, vaga con questi quadri quando poi dasci l'idea e soprattutto come si sviluppa questo risultato finale che poi è estremamente molto bello allora io avevo dato alle ragazze in particolare alla regista Sara May avevo dato questo input e dicevo mi piacerebbe che la protagonista siccome è un tema molto condivisibile, molto comune mi piacerebbe che la protagonista a un certo punto smettesse di diventare una e diventassero di più perché la solitudine di una è la solitudine di tutti in questo senso nel vivere questo tipo di esperienze e quindi loro hanno preso un certo numero di attrici che si muovono come hanno fatto a farle muovere nei quadri questo non lo so perché è una loro tecnica che io non conosco però devo dire che sono state veramente molto brave perché lo sfondo è quello effettivamente dei dipinti e queste donne che si fondono una con l'altra facendo gli stessi movimenti e muovendosi dalle stesse posture danno proprio quest'idea di mutazione delle persone senza variare del sentimento che le muove loro fra l'altro hanno aggiunto un altro quadro un terzo quadro che è molto famoso che si chiama Nighthawks che è un quadro credo del 1947 e quindi hanno allargato diciamo così l'ambientazione che però ci sta benissimo anzi mi è piaciuto veramente tanto quando l'ho visto e a questo punto spaziando un pochettino perché molte cose già di te ci conosciamo ti abbiamo raccontato a questo punto se ti dovessi descrivere in cinque parole come ti descriveresti ma soprattutto perché queste cinque parole? non è facile come mi descriverei ottimista attento alle parole e cinque sono tante però ottimista sicuramente attento alle parole pigro perché sono abbastanza pigro socievole nel senso che mi piace stare con le altre persone riservato cinque te lo avete? sì punto riservato ma forse una sesta mi piacerebbe dire anche se io non fotografo perché non faccio fotografie però direi fotografo nel senso che mi piace molto ma veramente tanto e mi viene anche abbastanza istintivo quando scrivo restituire attraverso delle parole delle immagini infatti mi dicono sempre tutti che le mie canzoni sono molto in qualche modo fotografiche perché perché descrivo i contesti perché descrivo gli ambienti perché cerco sempre di inquadrare le storie all'interno all'interno di spazi e invece quanto è emozionante importante emozionante ma anche stancante nella nella stesura e poi ottenere il risultato finale che è un brano ma stancante no nel senso che stancante è quando una cosa la fai e non hai voglia di farla se no non è stancante diciamo che io ci metto abbastanza tempo in parte perché è una delle cinque cose che ti ho detto sono pigro ma in realtà perché mi piace molto rileggere le cose che scrivo le mare di qua e le mare di là cioè prima di finire un testo ci metto tanto le componenti musicali anche però meno nel senso che se una cosa mi piace vado avanti e quindi la sviluppo se no non mi piace la lascio perdere e passo più tempo sui testi che in realtà sulle costruzioni musicali forse perché sono un pochino più perfezionista dal punto da quel punto di vista però non è fatica non è fatica ci metto un po' poi alla fine esce se il risultato mi piace la tengo lì e poi quando c'è qualcun altro le registro qual è stata la sensazione che hai provato Magno Gui hai fatto vedere per la prima volta ti hanno fatto vedere per la prima volta il videoclip quest'ultimo e la tua reazione inizialmente poi è stato concentrato sul brano però alla fine della proiezione dell'immagine qual è stata la tua reazione e sensazione? la mia reazione è stata molto positiva ho avuto delle belle sensazioni cioè l'ho trovato emozionante nonostante il fatto che vuol dire quando tu ascolti un brano tuo dopo che l'hai ascoltato milioni di volte il potere emozionale del brano stesso un pochino è scema invece vedendolo nel video devo dire che l'ho trovato molto stimolante infatti l'ho fatto vedere subito ad alcune persone e sono anche stato contento di aver avuto dei di aver avuto dei riscontri positivi anche da parte loro sono stato molto contento quando ho visto il video sono queste ragazze sono veramente molto brave anche perché poi sono nel nostro territorio quindi sì credo che se non sbaglio penso che siano dalla zona di Macerata se non sbaglio e quindi potremmo anche conoscerle o comunque in futuro le conosceremo e a questo punto progetti futuri oltre che continuare a promuovere con i momenti live da qui all'estate ci saranno? guardi i momenti live mi piacerebbe tanto farli però ti devo confessare che ho delle difficoltà ho delle difficoltà nel senso che nel senso che bisognerebbe fare un lavoro di promozione che faccio fatica a fare nel senso che sì qualche spazio è chiaro che lo trovo però non sono quelli che mi piacerebbe avere probabilmente perché per fare una cosa di questo tipo sarebbe necessario muoversi in prima persona e fare un lavoro a tappeto che che io probabilmente non faccio abbastanza nel senso quindi farò qualche concerto ecco una cosa che ho fatto volentieri devo dire ultimamente che però è un po' una cosa particolare sono degli home concert sono dei concerti in casa dei concerti in situazioni private che però sono una cosa un po' particolare perché si fanno in casa di persone che ti conoscono che si invitano di voci che girano e non sono diciamo così pubblici non è una cosa che tu puoi pubblicizzare e dire ah venite a vedere mio sono a suonare quel giorno lì perché è a casa di qualcuno e quindi c'è un invito privato sono belle esperienze però escono un pochino dal circuito diciamo in cui un artista si dovrebbe mostrare pubblicamente ma sei sentito solo una piazza piena di gente? no no assolutamente no cioè una piazza piena di gente io sono in mezzo degli altri ti guardo qualcuno mi piace qualcuno non mi piace però no non ho questa sensazione ma io in generale la sensazione della solitudine per mia fortuna per mia fortuna non ce l'ho molto non amo la solitudine che non significa che non amo stare da solo è diverso io da solo ci passo tantissimo tempo però so di avere dei riferimenti nella mia vita ed essere io riferimento per qualcun altro per cui voglio dire da questo punto di vista non ha io non vivo questa sensazione per fortuna perché da soli secondo me da soli si vive mai ogni tanto c'è qualcuno che dice ah io amo la solitudine o no per amore di Dio ma non si ha mai e invece il commento più o il consiglio il commento più strano che ti è stato fatto ascoltando la tua musica le tue canzoni i tuoi testi perché sono molto articolati diciamo che ogni tanto c'è qualcuno che mi dice che sono un po' critici e questo però è vero ma io lo ammetto però sai io penso che scrivere un testo sia un po' sia un po' in qualche modo come fare un dipinto cioè se una cosa ti viene distinto di farla in un certo modo la fai in quel modo se tu vuoi utilizzare delle parole per creare delle sensazioni anche senza che necessariamente le frasi che poi ne conseguono abbiano un senso logico sequenziale immediato questo non significa non è un buon motivo per non farle io mi ricordo sempre la canzone che scriveva Francesco De Gregore che diceva a un certo punto in un testo dove si faceva fatica a trovare un senso logico una continuità logica chiudeva le frasi dicendo non c'è niente da capire molte molte frasi molte parti di testi di canzoni hanno posso dire io secondo me hanno lo scopo di creare un'atmosfera restituire una sensazione hanno il potere di farlo anche al di là di quello che è il significato logico strettamente logico della frase che viene della frase che viene composta quindi questa è la critica che mi hanno fatto ogni tanto ogni tanto non si capisce bene che cosa vuoi dire e mi dispiace però purtroppo io non posso fare nient'altro che farlo in questo modo in un altro modo non sono capace e l'ultimo disco che hai comprato vedo che si è fornito di vinili qual è stato l'ultimo disco che hai comprato o che hai ascoltato che ti ha che ti ha attratto molto sono andato a vedere un concerto di un bravissimo chitarrista che si chiama Simone Valbonetti ho comprato il suo disco io di solito compro dischi compro cd anche se credo di essere rimasto uno di pochi che ancora possiede un lettore cd compro dischi di concerti piccoli tipo i miei vado a sentire artisti in piccoli club è un po' devo dire sono anni che non vado più a vedere grandi concerti preferisco andare in questi piccoli posti sentire qualcuno che fa cose più o meno simili a quelle che faccio io o comunque diciamo così di un ambito un pochino più di nicchia un pochino più ristretto e confrontarmi confrontarmi con loro qualcuno mi piace qualcuno mi piace meno io di solito quando loro hanno qualcosa di loro qualche disco che mi siano piaciuti e quando non mi siano piaciuti glielo compro lo stesso perché è giusto perché è giusto è giusto riconoscere a loro il fatto che si sono impegnati personalmente ci hanno messo la loro faccia ci hanno messo del loro nel presentarsi al pubblico nel mostrare quello che hanno voluto fare se stessi però quando ti presenti su un palcoscenico un pochino come dire ti metti ti metti a nudo insomma nel senso che dici io sono questa roba qui e questa è una cosa che io apprezzo e quindi mi sembra giusto riconoscere e questi sono i dischi che compro di solito perfetto tanto noi ti ringraziamo per essere stato nuovamente ospite a questo punto ci diamo appuntamento per il prossimo disco che sarà imminente probabilmente immagino che ci sarà non è imminente ma non è imminente ma ci sarà sto mettendo insieme un po' di materiale che io comunque mi diverto a scrivere e non so se lavorerò ancora con lo stesso produttore o se magari cercherò altre sfumature altre sonorità altre sensibilità però sì la mia attività nel mio piccolo va avanti spero che un po' di gente vada a vedere il mio nuovo video e che gli piaccia vi invito tutti a venirlo a venirlo a vedere su YouTube e qui naturalmente è libero quindi chiunque lo può chiunque lo può vedere e a questo punto ci mancano saluti finali e posto vi faccio un saluto anche con le mani grazie molto per la vostra cortesia e ospitalità e io spero di rivedervi presto studio 7 tv e sport picciano game hanno presentato l'intervista di Pietro ospite della puntata si risvegliò ed il suo primissimo pensiero fu per le ombre ormai distese lungo il muro